Quest'anno sono con il cortometraggio di Gabriele Pignotta che è l'amore che vorrei che è stato fatto da Rai Cinema in collaborazione con Doppia Difesa di Michelle Unziger dell'avvocato Buongiorno proprio contro la violenza sulle donne e invece ho portato due anni fa un corto che si intitolava ma si intitolava ancora dietro un grande uomo, l'acronimo è Dugu con Luca Argentero, c'è anche Max Vado, ci sono io, c'è Giorgia Vurte, Giorgia Cardaci ed è la storia di dietro un grande uomo, cioè chi c'è dietro una figura maschile di successo la tesi era un po' questa e ha vinto il premio di Rai Cinema Channel due anni fa e mi ha fatto approdare alla realizzazione di un lungo che è imminente Hai già scritto la sceneggiatura? Scritta e venduta Max, a fianco, dietro ogni donna, a fianco di ogni donna C'è sempre un uomo che ha molta pazienza perché questa poi è la tesi finale, cioè dietro ogni grande uomo c'è una grande donna ma l'uomo ha sempre una pazienza infinita che è la fine che le donne non dicono mai quello che le donne non dicono trovo che sia un ottimo completamento perché siamo anche molto diversi per cui certi pensieri che ho io e non li ho a lei e viceversa ovviamente per cui riusciamo a completarci anche sui punti di vista l'incontro è a volte anche lo scontro perché voglio dire nessuno pretende di far trapelare la notizia che noi non li diamo mai cioè certe volte ci discutiamo anche su delle cose molto importanti ma per crescere soprattutto lavorativamente che è una cosa che ci interessa molto Io ripongo molta fiducia nelle web series nel senso che non si può ignorare il formato web è difficile trovare dei prodotti perché è molto semplice prendere e fare una cosa e buttarla sul web altra cosa è trovare un prodotto di alta qualità sul web perché di solito uno dice guarda ho fatto un investimento e a questo punto lo faccio per un media più nobile quindi per la televisione o per il cinema o per altri circuiti in realtà io credo che il web abbia una sua dignità e la cosa diciamo su cui io mi sono concentrata come giurato è trovare un prodotto di alta qualità cioè giudicare un prodotto di alta qualità erano tutti di altissima qualità ma quello che in assoluto fosse più adatto proprio al formato del web un vantaggio che è quello che con un cellulare si può fare un film ora c'è uno svantaggio e che non tutti sono capaci di fare un film ci vuole l'investimento sicuramente dietro un investimento di energia, un investimento di mezzi per cui secondo me quello anche fa la differenza